Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Dune, l'atteso film di fantascienza di Denis Villeneuve, è in programmazione nei cinema italiani. Formidabile il cast, a cominciare da Timothée Chalamet, doppiato da Alex Polidori, voce della giovane star del cinema internazionale, anche in Chiamami col tuo nome, di Luca Guadagnino del 2017. Tra gli altri interpreti di Dune, Rebecca Ferguson e Oscar Isaac, doppiati da Gaia Bolognesi e Gabriele Sabatini. Le voci di Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin sono di Emanuela Ionica, Roberto Pedicini e Andrea Lavagnino. Nelle sale cinematografiche italiane è arrivato anche Supernova, il nuovo film di Harry McQueen con Colin Firth e Stanley Tucci, doppiati da Luca Biagini e Antonio Sanna. Completano il cast del doppiaggio Roberta Paladini, Roberto Stocchi, Franco Mannella, Thea Cesari, Alessandro Budroni, Cristiana Lionello e Annalisa Usai.